Ben ritrovati negli studi di Fano TV, oggi dedicheremo un approfondimento alla festa del Borgo Cavour, un evento che si terrà lunedì 13 e martedì 14 agosto nel centro storico di Fano. Do il benvenuto a Martina Carloni, membro del comitato organizzativo. Grazie, salve, grazie, grazie per avermi invitato nei vostri bellissimi studi. L'iniziativa è giunta alla 22esima edizione, questo significa che ci sono tanti commercianti che continuano a mantenere viva la tradizione. Sì, sono 22 anni che si svolge la festa del Borgo Cavour per le vie del quartiere, che tutti conoscono come piattelletti proprio per i ritrovamenti delle ceramiche antiche di una volta. Questa borgata è un luogo che ogni anno si anima con una festa, popolare, con musica, piatti della tradizione, beneficenza e animazione per bambini. Cercheremo adesso di raccontare un po' tutto il programma, ma io partirei appunto da questi piatti tipici, perciò dai vari menu che verranno preparati. Prepareremo tutti dei piatti della tradizione, come le cristalliate e i fagioli che sono fatte con la farina di polente, sono un piatto antico che proviene dalle case di campagna di una volta, le tagliatelle al ragù, alla trippa, i fagioli salsicce cotiche, alla nostra piada sfogliata a mano. Ecco, questi sono tutti dei piatti e altri che troverete quella sera, sia serviti che invece davanti al pastificio faremo un self-service, nel senso che uno può anche prendere e portare a casa o mangiare nei vari tavoli. Ecco perché insomma questa via sarà poi addobbata all'estita. Ci saranno un sacco di novità, un sacco di cose, ci saranno i Neutroterra che suoneranno il 13, mentre il 14 suoneranno il Senso Unico, in più ci saranno due tenori che faranno una sorpresa a tutti i nostri ospiti durante la serata, ci sarà Arfan Animation che farà animazione per tutti i bambini, li truccherà, li farà divertire con tanti giochi, in più ci sarà Anni Magic che preparerà un'area dedicata ai bambini per farli giocare con i sabbiarelli. Altra novità ci sarà Carla De Angelis che ogni anno coinvolge tutti gli artisti locali dove farà un'esposizione dentro il palazzo Speranza che uno può andare a visitare e in più ci sarà il gelatiere che proporrà il proprio gelato, Atelier 54, per quanto riguarda il beverage così come anche il barberto con cose locali, con la birra locale della nostra, con loro si occuperanno delle bevande. Sì, esatto. Invece l'Osteria della Peppa, come dicevamo, ha preparato e pensato questi menu a tema, caratteristici tipici del territorio. Sì, esatto. Insomma, la tradizione non mancherà di certo durante queste due giornate e quindi dicevamo una festa un po' per tutti, famiglie, bambini, adulti, turisti. Sì, esatto. Dai giovani ai bambini, alle famiglie, agli anziani che sono ormai abituati a venirci trovare da 22 anni ogni anno. Quindi abbiamo, sì, ormai dei clienti fissi che animano questo borgo e noi commercianti ci teniamo tantissimo a questa tradizione che comunque dura da 22 anni non è poco così. È vero, insomma, sono tanti anni e tanto tempo. Altro fattore molto importante è la beneficenza. Sì, quest'anno l'Associazione Padre Pio di Fano raccoglierà i fondi per sostenere la mensa di San Patregnano che è particolarmente attiva nel sostegno delle persone in difficoltà. Quindi sarà di certo un evento partecipatissimo, un evento che tra l'altro appunto viene organizzato nella settimana di Ferragosto per cui si attendono tante persone in questo borgo fantastico. Vorrei far notare anche un'altra cosa, che c'è questa sinergia fra commercianti, quindi questa unione proprio per creare, realizzare, ideare questo evento. Sì, per creare anche un'attrattiva per i turisti ma anche per la gente del posto. Ci piace vedere questo borgo pieno di persone, di bambini che corrono, che giocano e ne siamo felici che ogni anno riusciamo ad organizzare e trovare fondi per organizzare questa manifestazione, questa festa. Chi sono i promotori dell'evento? I promotori dell'evento sono Agenzia Immobiliare Quattro Mura a basso prezzo, Atelier di Sabina che come ogni anno organizzerà uno spazio dedicato ai bambini per fotografarli come ricordo di questa festa che potranno portare a casa bambini e genitori e ragazzi. Poi abbiamo Atelier 54, Food & Wine, Anni magici, Centro Bellezza Baccarà, Barberto, Cartoleria Domus, Enoteca Il Buon Gusto che proporrà i propri prodotti della tradizione, perché l'anoteca Buon Gusto ha tutti dei prodotti tipici fanesi, il gelatiere, Osteria Dalla Peppa, Pizzeria Lucas dove potrete esaggiare la loro pizza, studio d'arte Carla De Angelis e tabaccheria Battisti. Ci sarà anche dell'arte? Ci sarà anche dell'arte, come dicevo prima. Sì, abbiamo cercato di coinvolgere tutti quelli che si potevano coinvolgere e ogni persona ogni anno cerca di aggiungersi e noi siamo felicissimi perché ci piace sempre più animare anche chiunque ha un'idea, ci piace svilupparla insieme per dare un'attrattiva sempre più nuova a questa festa. Dunque arte, musica, animazioni per bambini, street food, dunque buon cibo che animeranno tutto questo fantastico borgo lunedì 13 e martedì 14 agosto nel centro storico di Fano. Festa del Borgo Cavour, veniteci a trovare. Grazie Martina, grazie a voi per avermi ospitato. Buona serata anche a tutti i nostri telespettatori, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie per la visione!